ore 21 e 16 del 20 dicembre sono uscito qui a fianco anche se non si vede in modo nitido c'è il centro, il tempio buddista più grande d'Europa inaugurato di decente da Roberto Baggio Cascina la guardia che è una struttura che penso che starà per essere inglobata dal tempio medesimo riprendo queste scene vikensiane sembreranno uscite dal romanzo Grandi Illusioni nel grande Vikens oh Dio, grande per la capacità descrittiva ma il senso dell'umorismo per andarlo a cercare in quelle pagine ma del resto le vicende di cui trattava non è che fossero propense a sposarsi con nessun tipo di sorriso neanche amaro la nebbia ha avvolto la città, il naviglio aureola l'illuminazione pubblica i fari delle macchine assumono dei contorni sprangiati come un novello Garda esco le parole qua e là che mi arrivano dai linguaggi più disparati anche della gente di strada mi sa che sprangiato viene da qualche parrucchiere ma si attaglia bene la descrizione di questo fascio di luce interrotto dai milioni di particelle nebbiose o comunque mitigato, o comunque attenuato vado verso casa mentre su Radio Montecallo trasmettono la inevitabile pubblicità in attesa che parta qualche pezzo di musica decisamente più ascoltabile ma in realtà è un emittente questa che trasmette la migliore musica in assoluto e che al termine di una giornata di lavoro ti massaggia le sinapsi cerebrali dopo che per tutto il tempo sono state bombardate da domande tipo quante persone possono dormire in un letto matrimoniale quanti ripiani ci sono in una confezione di una coppia di ripiani come faccio per uscire il più in fretta possibile oppure dove trovo questo prodotto? al piano inferiore signora, su o giù è la replica la nebbia si presenta così esteticamente apprezzabile nel smussare i contorni degli angoli dei palazzi e in generale della vita che conduciamo quanto in senso negativo ottunde i pensieri e i linguaggi delle persone non sappiamo più parlare confondiamo anta con ripiano confondiamo piano inferiore non sappiamo dire se è sopra o sotto se non dici giù da basso non capiscono ci siamo mangiati i complementi di specificazione tipo ho bisogno un'anta ho bisogno una struttura ho bisogno un tappeto non più ho bisogno di un tappeto di un'anta di una struttura e che cavolo alla fine il problema diciamo di chi ha studiato dei linguaggi o fa dello studio dei linguaggi una propria come dire passione di vita corre il rischio dopo otto ore di questo interminabile massacro della lingua italiana è una struttura adeguarsi verso il basso ed arrivare a un tale grado di stress psicofisico da rispondere al citofono quando telefonano e rispondere al telefono quando citofonano e la nebbia la nebbia che circonda tutto circonfonde tutto anche il furbo dell'ultima ora che ha scavalcato cambiando corsia ma chi se ne frega non sono certo il tipo che se la prende per queste italianate da quattro soldi eccola la musica evocata la buona musica evocata è arrivata non ci lamentiamo di questi tempi accontentiamoci che l'armonia di queste note gratis entrino all'interno dell'abitacolo della mia macchina che a quest'ora della sera è una navicella spaziale pronta per riversarsi in direzione dei miei sogni grazie a tutti la mia macchina è una nuova grazie a tutti